Grazie, grazie davvero. Allora, quello che avete appena sentito è appunto il genere spiritual e gospel, che nasce completamente da stati emotivi, di persone normali, non occulte, non compositori. Lo spiritual non conosce autori. Sono tutte musiche che nascono dalle popolazioni di Piazza Nera, le donne a schiavitù, negli Stati Uniti, che mettono il loro ritmo nato africano insieme agli individuisti, battisti, europei, e nasce questa meravigliosa musica che stasera impresentiamo. Intendiamo presentare i vari generi musicali perché dovete sapere che da quel genere, lo spiritual, deriva e nasce tutta la musica nera, anche negli Stati Uniti, tutto il rap compreso, l'esasperazione medica e questa gioia. Ecco, ieri non avevano tanto, le popolazioni di Piazza Nera non avevano tanto un'attenzione al testo, ma quanto proprio la sensazione, l'emozione. Vi diamo un esempio proprio adesso, vi facciamo un brano di Natale che però l'ha interpretato all'uomo. Giri su un brano funcione. 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 Amore, 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 Am Grazie a tutti. Grazie a tutti.